Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui vorrei parlare oggi è quella di un caso veramente terribile che ha praticamente scioccato l'intero Giappone. Oggi vorrei parlare del massacro avvenuto alla Tokyo Animation nel 2019. In realtà già in passato avevo trattato di questo caso ma visto che è trascorso un po' di tempo ci sono stati una serie di aggiornamenti che vorrei condividere con voi. Prima di iniziare con questo video però vorrei ricordarvi che pubblico nuovi video il lunedì e il giovedì a luna di pomeriggio e che sull'altro canale quello di Giappone in cui parlo di cultura giapponese carico nuovi video tutti i sabati verso le 11 quindi vi consiglio di iscrivervi anche a quel canale se vi interessa la cultura giapponese. Inoltre volevo anche ricordarvi che è uscito il mio nuovo album quindi chi volesse ascoltare la mia musica la può reperire su Tipo Music, Amazon, Spotify e tutti gli altri digital store. Ma adesso iniziamo con questa storia. Ragazzi dovete sapere che il Giappone come ho trattato spesso sull'altro canale è un paese piuttosto sicuro. Infatti i casi criminali che avvengono in Giappone sono particolarmente limitati il che mi rende la vita piuttosto difficile fare un canale tutto dedicato ai criminali giapponesi. Tuttavia essendo il numero così basso ogni volta che c'è un assassino questo fa tantissime news e se ne parla molto spesso. L'incidente di cui parleremo oggi tuttavia è avvenuto ed è un massacro talmente singolare che non ha avuto precedenti. Forse l'unico che potrebbe un pochino ricordare un caso simile è quello avvenuto nella metropolitana di Tokyo per quanto riguarda la setta Om Shinrikyo di cui ho fatto anche un altro video e tra l'altro anche trattato a uno dei miei esami alla magistrale. In ogni caso questo caso è avvenuto a Kyoto che per chi non lo sapesse Kyoto è la capitale tradizionale del Giappone. Kyoto è stata infatti la capitale nel periodo Heian poi successivamente è stata trasferita. Tuttavia per lunghissimo tempo, forse ancora oggi, Kyoto è rimasta comunque la capitale almeno per quanto riguarda il patrimonio artistico e culturale del paese. È una città che attira moltissimi turisti ogni anno ed è davvero meravigliosa. Tra l'altro dovete sapere che comunque Kyoto pur essendo questa città dal patrimonio culturale è veramente vastissimo è comunque anche una città molto moderna. Infatti la stazione che è stata ricostruita comunque recentemente è veramente bellissima. Cioè a livello architettonico penso che sia una delle stazioni più belle che ho mai visto. Se andate a Kyoto dovete, penso, non lo so, ogni volta che arrivo a Kyoto con il treno ad alta velocità, vedere questa stazione mi trasmette sempre tantissime emozioni bellissime. Kyoto infatti è anche una delle città comunque che ospita un sacco di uffici di molte aziende. Per esempio la Capcom si trova a Kyoto e anche molte altre, tra cui anche Kyoto Animation. Quindi questi studi di animazione famosissimi hanno gli uffici proprio qui a Kyoto. La Kyoto Animation, anche spesso abbreviata KyoAni, è stata fondata nel 1981 ed è considerata tra le migliori al mondo per l'eccellenza sul comparto tecnico e famoso tra l'altro per aver pubblicato delle opere come la malinconia di Aruki Suzumiya. E' stata fondata da Hideaki Hatta e da sua moglie. E questa azienda dovete capire che da un piccolo studio si è trasformata veramente in uno degli studi per l'animazione più rinomati di tutto il paese. Negli anni infatti la Kyoto Animation è stata riconosciuta per la sua produzione di grande qualità. Questa azienda tra l'altro pagava i suoi animatori con un salario, quindi con una curio, invece che pagarli a progetto. Infatti non è insolito in molte di queste aziende che spesso magari ci sono i disegnatori, quelli che sono assunti come Seishain, quindi che sono a tempo indeterminato, e quelli che invece o vengono assunti a contratto, magari per un anno o due, o quelli che vengono assunti solamente a progetto. E tra l'altro era anche uno studio famoso perché non metteva troppe pressioni ai suoi lavoratori, almeno questo è emerso in seguito a questo massacro, e dicevano che comunque si impegnavano molto di più a portare qualità invece che quantità. Questa era proprio una delle policy di questa azienda. E dovete sapere che questa piccola azienda inizialmente si è poi espansa spostandosi da Ugi, dove era stata creata inizialmente, fino a Kyoto, dove hanno fondato questo edificio e l'hanno chiamato Studio 1. E hanno creato veramente una serie di anime famosissimi come Clanhand, Keon e anche A Silence Voice. Non so esattamente come sono i titoli in italiano di queste opere, ma se li conoscete scrivetemi qui sotto. Nel momento in cui è avvenuto questo massacro nel 2019, questa azienda stava andando veramente a gonfie, stava andando benissimo, e benché fosse famosa sia per il suo business model e per le sue policy, che vi ho detto, del lavoro, che cercavano o comunque di facilitare i dipendenti, c'era anche una piccola minoranza di persone che non era particolarmente soddisfatta di questo lavoro alla Kyoto Animation. C'era chi trovava questo lavoro magari non troppo entusiasmante o gratificante e chi invece addirittura aveva dell'odio contro questa azienda per delle motivazioni molto più singolare. La persona di cui mi riferisco è Shinji Aiba. Nel 2019 Shinji Aiba era un uomo di 40 anni che viveva nella prefettura di Saitama, che è giusto sopra Tokyo. Era nato il 16 maggio del 1978. È cresciuto nel distretto di Midoriku, appunto nella prefettura di Saitama. Quando era un bambino i suoi genitori divorziarono e questo lo lasciò praticamente a vivere con il suo padre, i suoi fratelli e sorelle. Shinji sembra che avesse vissuto una vita piuttosto travagliata fino a diventare un adulto. Molti dei suoi compagni di classe infatti dissero che questo ragazzo era spesso assente a scuola e non sembrava mai interessato alle lezioni. Dopo che si è diplomato ha iniziato a lavorare in un konbini, quindi non è andato avanti a seguire un percorso universitario come fanno moltissimi giapponesi che aspirano a dei lavori diciamo di un certo livello. Quando aveva 34 anni ebbe anche dei problemi con la giustizia. Infatti nel 2012 ha commesso dei furti all'interno di un konbini e store. Tra l'altro era andato a fare questa rapina con un coltello e riuscì a estorcere diciamo una cifra come 20-30 mila yen che non sono neanche tantissimi, saranno 200 euro. E questo lo portò praticamente ad essere arrestato. Le ragioni per cui lui ha commesso questo furto sono state a detta sua il fatto che fosse stufo di vivere in questa società. E' stato poi rilasciato nel 2016 e è tornato a vivere in un appartamento a Saitama. Spostandoci di nuovo a Kyoto la Kyoto Animation stava crescendo sempre più e dovete sapere che dal 2019 questa compagnia aveva creato questo evento, questa gara chiamata Kyoto Animation Awards. Questa gara praticamente permetteva a magari aspiranti sceneggiatori o scrittori di anime di poter inoltrare la loro idea e questa sarebbe stata visionata comunque da un team di esperti e se fosse stata considerata all'altezza aveva anche il potenziale di diventare un anime. Come potete capire questo è un premio molto prestigioso e ci sono moltissimi giapponesi che vorrebbero fare comunque creatori di anime e questa quindi è veramente un'ottima opportunità. E tra l'altro il vincitore vince anche i 10 mila euro. Qui è stato quando praticamente questo Shinji e questa Kyoto Animation hanno avuto un primo contatto perché tra il 2017 e il 2018 questo Shinji ha inoltrato la sua idea due volte. Tuttavia la sua idea è stata subito scartata proprio nella prima selezione e dovete sapere che questo Shinji non è stato molto felice che la sua idea è stata rifiutata anzi lo ha reso molto molto nervoso e ha iniziato a nutrire una forma di odio nei confronti di questa azienda. Dovete sapere che comunque Shinji non è che stesse vivendo un periodo molto facile non che questo giustifica assolutamente le azioni di cui si andrà a macchiare tuttavia era un uomo che da quando era uscito di galera non aveva più praticamente contatti con amici o la famiglia. Nel 1999 anche suo padre si era suicidato e quindi era un uomo che viveva da solo probabilmente arrabbiato e deluso della società appunto motivo che l'ha anche spinto a fare quella rapina non combini e quindi magari un otaku non mi piace usare questo termine perché sapete che in Giappone ha un significato un po' diverso però comunque un uomo che steva molto a casa che non usciva spesso che non aveva amici attorno a lui e magari non lo so rigettava le sue frustrazioni o la sua no nel passare il tempo a giocare sempre ai videogiochi e anime. Vi dovete capire come il fatto che non avesse nessun amico o parente con cui potersi confidare lo ha reso una persona anche violenta a detta di alcuni suoi vicini. Nel 2018 Shinji era un uomo estremamente deluso anche del fatto che la Kyoto Animation l'avesse rifiutato ma c'è stato poi un nuovo episodio che lo ha praticamente portato su una via molto più oscura. Si trovava nella sua casa e stava guardando degli anime in particolare stava guardando proprio un anime prodotto dalla Kyoto Animation e guardando questo anime si era convinto nella sua testa malata che l'anime che stava guardando era in realtà di fatto l'idea che lui aveva inoltrato per la gara della Kyoto Animation Awards. Secondo Shinji la Kyoto Animation aveva rubato la sua produzione. Durante lo stesso periodo in ottobre appunto di quell'anno del 2018 una mattina i dipendenti di quell'azienda si svegliarono e si ritrovarono ben 200 email mandate a vari dipendenti dell'azienda con delle minacce di morte. La polizia è stata contattata per poter investigare su questo fatto tuttavia dal momento che era stato utilizzato un software per nascondere l'identità del mittente non è stato possibile risalire a chi avesse mandato questi mail. Possiamo però immaginarlo visto quello che è successo l'anno successivo. Spostiamoci adesso nel 2019 in particolare al 14 luglio. In questa giornata infatti Shinji aveva avuto una specie di litigio con il suo vicino di casa Matsu. loro spesso si lamentavano a vicenda per chi facesse rumore. Quella giornata praticamente Matsu stava spostando dei mobili e questo aveva irritato particolarmente Shinji che è andato a bussare alla porta e quando l'uomo l'ha aperto lo ha preso praticamente per il collare della camicia e gli ha detto di smettere assolutamente di fare questo rumore che altrimenti lo avrebbe ucciso e che non aveva più nulla da perdere. In seguito Shinji è uscito di casa. Come potete immaginare Matsu non era assolutamente tranquillo e quindi è andato a contattare la polizia avvisandoli dell'accaduto. Tuttavia quando la polizia arrivò nella casa di Shinji non lo trovarono più. Infatti in quel momento Shinji si stava recando a Kyoto con il treno ad alta velocità lo Shinkansen. Durante la sua permanenza a Kyoto ha dormito in un hotel e il giorno successivo lo possiamo vedere dalle telecamere di sorveglianza passeggiare per la città di Kyoto. Il giorno successivo si è poi recato in un altro hotel e ha fatto così per un'altra notte. Ci spostiamo adesso al 17 di luglio dove lo possiamo vedere ancora ripreso da alcune telecamere di sorveglianza indossare ancora gli stessi abiti questa maglia rossa e questi jeans. Shinji è entrato quindi in un negozio e si è comprato questo specie di carrello. Con questo trolley si spostò per una decina di chilometri a nord fino ad arrivare a un benzinaio dove comprò dieci taniche di benzina. Successivamente l'uomo si è spostato sempre più nei pressi della Kyoto Animation. Successivamente passò la notte in un hotel vicino a questo studio. Il giorno seguente infatti il 18 luglio del 2019 l'uomo si è recato negli studi della Kyoto Animation con questo carrello e queste taniche piene di benzina. Erano le ore 10 e 31 e 70 dipendenti si trovavano all'interno di questo edificio. E' stato qui che l'uomo ha praticamente usato la violenza per entrare all'interno dell'edificio e una volta dentro ha aperto una tanica e ha gridato morirete tutti accendendo un accendino. Queste taniche di benzina sono esplose e queste sono le immagini proprio successive a quel momento. Come potete immaginare il primo piano di questo edificio era completamente incendiato e nel giro di altri 10 secondi anche il piano superiore era praticamente completamente invaso dalle fiamme. E anche le finestre del terzo piano nel giro di qualche minuto sono state completamente distrutte. Da tutti i fuori di questo edificio praticamente usciva questo fumo nero. Sinji in seguito a questo fatto era ancora in vita. Tuttavia il suo corpo era completamente ricoperto dalle fiamme perché benché avesse cercato di scappare e andare in strada comunque aveva solo 10 secondi di tempo. Le persone che hanno assistito a questo incidente e probabilmente anche i soccorsi hanno pensato che si trattava di una povera vittima e lo hanno subito soccorso. L'uomo era senza coscienza in quel momento e tuttavia quando si riprese e fu in grado nuovamente di stare in piedi con le sue gambe aveva cercato di scappare. Tuttavia degli dipendenti della Kyoto Animation lo hanno riconosciuto e lo hanno inseguito per fermarlo. E qua è stato quando la polizia è intervenuta e lo ha catturato. La polizia quando lo ha riconosciuto finalmente riuscì a chiedergli perché l'avesse fatto. E la sua risposta è stata hanno plagiato il mio lavoro. La mia domanda è solamente quella di poter parlare con il presidente riferito alla Kyoto Animation. Cinque pompieri entravano nell'edificio cercando di salvare il maggior numero di dipendenti tuttavia la maggior parte di loro purtroppo era già morta. L'incendio è continuato e le fiamme non si sono calmate per ben altre cinque ore. Successivamente quella notte sono stati trovati i corpi deceduti di ben 33 dipendenti. Tre sono stati trovati nel primo piano, undici nel secondo e diciannove nel terzo piano e un po' sulle scale che davano sul tetto. E molte altre persone erano rimaste ferite. Tre di loro nelle seguenti settimane purtroppo sono decedute perché le loro ustioni erano troppo gravi. E il numero di morti è stato quello di 37. 37 dipendenti di questa azienda. Potete immaginare com'è questa notizia. Pure io ci ho fatto il video. Ha ricevuto l'attenzione più o meno di tutti i media sia in Giappone che all'estero che anche della comunità degli anime perché è stata una di quegli episodi talmente gravi e scioccanti che veramente speriamo che fatti del genere non si ripetano più. Questo uomo è diventato praticamente l'assassino che ha ucciso il numero più grande di persone in Giappone fin dai tempi della seconda guerra mondiale. Tra l'altro la polizia da ulteriori investigazioni ha anche scoperto che l'uomo aveva anche un piano B. Infatti era in possesso di sei coltelli che avrebbe usato magari se le tani che non fossero esplose. Quindi era il suo piano B per poter uccidere il maggior numero di dipendenti di questa azienda. Ben che c'erano tutte queste prove per poterlo incriminare la polizia non poteva portarlo in carcere dal momento che soffriva delle ustioni estremamente gravi quindi un team di esperti medici hanno dovuto fare dei test per potersi assicurare che l'uomo avrebbe potuto sopravvivere all'interno di una prigione perché in quel momento l'uomo era di nuovo incosciente. A Shinji era stata data soltanto l'1% delle chance di poter sopravvivere in quelle condizioni. L'uomo è riuscito tuttavia a diciamo sopravvivere e nel settembre del 2019 il team di medici ha finalmente detto che non era più in condizioni critiche. Il numero comunque di pelle che poteva essere donata per poter diciamo togliere queste persone da questa situazione critica è stata data la priorità alle vittime e soltanto in seguito è stata donata in parte anche a Shinji. La polizia ha poi interrogato Shinji nel settembre del 2019 e l'uomo ha confessato di essere stato lui l'artefice di questo incendio. E queste furono le sue parole. Avevo un grande odio nei confronti della Kyoto Animation. Ho pensato che se avessi appiccato un incendio con la benzina all'interno di questo edificio sarei riuscito a uccidere più persone. E questo è il motivo per cui l'ho fatto. È stato soltanto nel maggio del 2020 che l'uomo è stato finalmente trasferito in una prigione dieci mesi dopo il suo attacco. Dovete capire che però nel maggio comunque del 2020 l'intero mondo pensava più al coronavirus quindi diciamo che questa notizia non ha ricevuto magari l'attenzione che avrebbe ricevuto se non ci fosse stato il covid. È stato finalmente portato in prigione quindi arrestato il 27 maggio del 2020 e nel dicembre sempre dello stesso anno è stato finalmente formalmente incarcerato. L'uomo è stato reputato assolutamente colpevole di questo fatto. La sua versione dei fatti è stata che secondo lui la Kyoto Animation aveva rubato la sua idea e questo è stato il motivo che lo ha portato a comportarsi così. Dicendo che hanno lucrato sulla sua idea senza dargli nessun compenso e senza nemmeno mettere il suo credito. Le sue parole sono state La cosa che hanno copiato da me è stata la scena in Zundere dove il protagonista compra della carne scontata. La Kyoto Animation ha assolutamente negato di aver copiato qualsiasi cosa da lui e che la scena era estremamente generica. Inizialmente la Kyoto Animation ha detto che l'uomo non aveva mai inviato una sua idea alla Kyoto Animation ma successivamente con delle ulteriori investigazioni è emerso che in realtà l'uomo aveva di fatto inviato un suo manoscritto. E hanno detto che appunto come avevo detto all'inizio che questa sua idea era stata scartata proprio nel primo round di questa gara. Un team di esperti un anno dopo successivamente a questo massacro ha esaminato Shinji e lo ha ritenuto consapevole di quello che avesse fatto. Quindi quando lui aveva commesso questo crimine sapeva esattamente quello che stava facendo. Il che è una cosa tra virgolette positiva perché quindi ciò significa che l'uomo ha potuto ricevere una pena senza sconti. Ancora non siamo arrivati a una vera e propria sentenza per quanto riguarda questo caso. Molti si aspettano probabilmente la pena di morte, non lo so, o comunque un ergastro che spende il resto dei suoi giorni in carcere, essendo uno dei massacri più terribili del Giappone. La sentenza dovrebbe arrivare a fine anno o forse all'inizio del 2022, dipende un po' da come andrà la pandemia, proprio in questi mesi, però è probabile che se ne parla. Anche nella scorsa settimana ho visto un servizio in tv e quindi penso che la decisione arriverà molto presto, anche se per via della pandemia eccetera è stata un po' rimandata. Una cosa che mi ha un po' commossa è stato il fatto di quante persone comunque abbiano cercato di donare e stare vicino alle vittime. Infatti è stato creato un fondo per poter fare donazioni alla Kyoto Animation i cui preventi sarebbero arrivati alle famiglie delle vittime e in parte utilizzati anche per ricostruire gli studi che sono andati distrutti. Mi ricordo anche, persino io ne ho parlato, ma vabbè io con le poche visite che faccio non ho potuto fare nulla, però per esempio due miei amici come Akidirest e Joy di Anime Man hanno anche loro condiviso sul loro twitter ben più seguito i dati per poter donare a questo Kyoto Animation. L'intera comunità degli anime si è comunque radunata per poter sostenere questo studio e stare vicino alle persone che hanno così tanto sofferto in questa tragedia. E dovete sapere che è stata messa insieme una cifra come più di 5 bilioni di yen. L'edificio che in passato ospitava appunto questo studio della Kyoto Animation è stato demolito e il presidente ha detto che probabilmente sarà costruito un parco o comunque un memoriale per ricordare le vittime che hanno perso la vita in questo massacro. Anche se tuttavia la decisione non è ancora stata fatta. Molti dei dipendenti che facevano parte della Kyoto Animation e che erano all'interno dell'edificio non hanno voluto smettere di lavorare e tutt'oggi stanno ancora lavorando per questa azienda. Molte persone hanno detto che questa dura realtà non era dovuta a un comportamento sbagliato della compagnia ma soltanto alla mente malata di un pazzo. E molti di questi dipendenti appunto che hanno sopravvissuto a questo massacro hanno scelto di continuare a lavorare lì anche per ricordare i loro colleghi che sono deceduti. Non lo so ragazzi, non so perché questa storia mi ha preso così tanto è che è una cosa così triste, cioè mi immagino le famiglie di questi lavoratori che magari avevano, non lo so, dei figli a casa immaginatevi voi, fate andare il vostro padre al lavoro e poi per via di un pazzo del genere tutti perdono la vita cioè è veramente ingiusto e... non lo so ragazzi. In ogni caso ragazzi una cosa importante è che sono state aggiunte delle nuove regole per quanto riguarda la sicurezza all'interno degli edifici in modo che casi del genere non succedano mai più e inoltre è stato posto un limite al numero di litri di benzina che si possono comprare. Una cosa importante è che questo fatto non ha, diciamo, fermato la Kyoto Animation che sta ancora andando avanti e facendo tante altre produzioni. Ragazzi, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di questo caso che cosa ne pensate di Shinji pensate che adesso stia vivendo la sua vita nel rimorso o che magari è contento di quello che ha fatto non so se era una persona malata o se era solamente una persona estremamente crudele è una storia veramente triste quella che è successa e pensare che è successa solamente due anni fa mi fa veramente venire i brividi. Io vi ringrazio per essere stati con me se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un mi piace che aiutereste a far riconoscere questi video all'algoritmo di Youtube e noi ci vediamo al prossimo video Un saluto da Seba, ciao! Grazie a tutti!